Informa al TV e la libertà di parola hanno bisogno di te adesso. Effettua subito una donazione per sostenere le spese illegali contro la censura di YouTube. Partecipa anche tu alla battaglia per la libertà di parola e di espressione di tutti. Puoi effettuare la donazione sia tramite Paypal che tramite Bonifico. Trovi le indicazioni nella descrizione di tutti i video di Informa al TV oppure sulla pagina donazioni del sito di Informa al TV www.informa al TV.it. Dona subito. Informa al TV e la libertà di parola hanno bisogno di te subito. Cari amici, per prima cosa voglio ringraziare di cuore tutte le persone che stanno contribuendo alle spese illegali con una donazione. E a questo proposito voglio informarvi che ho creato una pagina dove trovate il resoconto dei soldi raccolti fino ad oggi. Per trovare questa pagina basta collegarsi al sito di Informa al TV sulla pagina donazioni. Sulla pagina donazioni trovate il link a questo resoconto. Ovviamente non è un resoconto in tempo reale. Io la sera faccio i conti e aggiorno la cifra raccolta. Nel ringraziare chi ha contribuito volevo ricordare che per quanto è stata una partenza sprint, quindi ringrazio veramente di cuore tutti, purtroppo siamo ancora lontani dalla meta. Quindi invito chi non ha ancora contribuito a fare un piccolo sforzo per la libertà di tutti. Ma adesso passiamo all'argomento del giorno perché mentre da una parte un giudice di pace ha emesso una sentenza chiarissima dove oltre ad annullare una multa per violazione del lockdown sancisce e scrive nero su bianco che lo stato di emergenza è illegittimo, è fuori legge, è contro la legge. Ebbene dall'altra parte il governo non curante di nulla continua con le sue ingerenze antidemocratiche ed anticostituzionali a partire dal ingiustificabile prolungamento dello stato di emergenza fatto con il duplice scopo da una parte di tenere il governo bene incollato alle poltrone e dall'altro di continuare a terrorizzare la popolazione creando così i presupposti per ulteriori limitazioni delle libertà personali ed aprire anche le porte a trattamenti sanitari obbligatori che però di fatto sono totalmente fuori legge. È evidente che molte persone, non solo il governo e i politici, hanno un grande interesse a paventare una seconda ondata ma nel caso questa seconda ondata non dovesse arrivare, non oso immaginarmi cosa si inventeranno. E così assistiamo a persone che vanno in giro con la mascherina all'aria aperta mentre fanno sport, costringono addirittura i bambini ad indossarla all'aria aperta oppure se ne vanno in giro in macchina da soli indossando la mascherina e magari queste poi sono le stesse persone che invece a marzo se ne andavano in giro senza mascherina e prendevano in giro chi invece la indossava. E tutto questo dà la misura di con quanta facilità il sistema riesce ad influenzare le masse ed ha anche la misura di quanto gran parte della popolazione subisca tutto questo con estrema passività. Pensate che c'è addirittura chi è tronfio della sua mascherina firmata e non vede l'ora di mostrarla, di indossarla e di mostrarla in pubblico. Io direi che veramente di fronte a tutto questo c'è ben poco da commentare. Siamo ormai all'assurdo, a partire dalle folli idee, dalle folli proposte per la riapertura delle scuole fino ad arrivare veramente a fatti del tutto stravaganti per trattenersi come il distanziamento verticale in vigore sui mezzi pubblici di Torino. Sui mezzi pubblici di Torino è stato introdotto il distanziamento verticale. I passeggeri di bus, tram e metropolitana sono obbligati a guardare fuori dal finestrino vietato guardarsi in faccia oltre che sedersi uno di fronte all'altro. La nuova regola è stata introdotta dopo la caduta del distanziamento orizzontale cioè dell'obbligo di mantenere la distanza di un metro dagli altri passeggeri. L'indicazione di rivolgere lo sguardo verso vetrate e finestrini è riportata su tutti i mezzi pubblici. La mascherina resta comunque necessaria. Sembra impossibile che i cittadini accettino tutto ciò in silenzio eppure questa è la triste realtà. Governo e istituzioni procedono senza ritegno, senza vergogna e senza esitazione nonostante la sentenza del giudice di pace metta chiaramente nero su bianco l'illegittimità del lockdown e dello stato di emergenza. Ora però siccome tutti hanno parlato di questa sentenza, l'hanno commentata ma nessuno però in realtà l'ha letta per intero, lo facciamo insieme adesso. Bene, questa è la sentenza del giudice di pace di Frosinone, avvocato Emilio Manganiello. Sentenza del 15 luglio 2020, anche se la notizia si è diffusa solo due giorni fa. Con ricorso tempestivamente depositato e successivamente notificato il ricorrente si opponeva all'atto di cui ha l'oggetto con il quale ha ricevuto la contestazione della violazione del divieto di spostarsi in conseguenza dell'emergenza sanitaria ai sensi del DPCM non specificato. L'ente opposto non si costituiva e la causa veniva decisa come da separato dispositivo letto in udienza. Motivi della decisione. Il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto. ha sulla illegittimità della dichiarazione dello stato di emergenza per violazione dell'articolo 95 e 78 della Costituzione e dei conseguenti DPCM. Con deliberazione del 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale numero 26 del 1 febbraio 2020, ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario derivante da agenti virali trasmissibili ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7,1 lettera C e dell'articolo 24,1 del decreto legislativo 2 gennaio 2018 numero 1. È dichiarato per sei mesi dalla data del presente provvedimento lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 2. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 25,2 lettera A e B, se si esamina la fattispecie richiamata dalla deliberazione sopracitata, si potrà notare che non si rinviene alcun riferimento a situazioni di rischio sanitario, da addirittura agenti virali. Infatti l'articolo 7,1 lettera C del decreto legislativo numero 1.18 stabilisce che gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono. c. Emergenze di rilievo nazionale connessi con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo. Sono le calamità naturali, cioè terremoti, valanghi, alluvioni, incendi ed altri, oppure derivanti dall'attività dell'uomo, cioè sversamenti, attività umane inquinanti ed altri. Ma nulla delle fattispecie di cui all'articolo 7,1 lettera C del decreto legislativo numero 1.18 è riconducibile al rischio sanitario. A ciò è doveroso aggiungere che i nostri padri costituenti hanno previsto nella Costituzione della Repubblica una sola ipotesi di fattispecie attributiva al governo di poteri normativi peculiari. Ed è quella prevista e regolata dall'articolo 78 e dall'articolo 87 relativa alla dichiarazione dello Stato di guerra. Non vi è nella Costituzione italiana alcun riferimento ad ipotesi di dichiarazione dello Stato di emergenza per rischio sanitario e come visto neppure nel decreto legislativo numero 1.18. In conseguenza, la dichiarazione adottata dal Consiglio dei Ministri del 31 febbraio 2020 è illegittima perché emanata in assenza dei presupposti legislativi, in quanto nessuna fonte costituzionale o avente forza di legge ordinaria attribuisce il potere al Consiglio dei Ministri di dichiarare lo Stato di emergenza per rischio sanitario. Pertanto, poiché gli atti amministrativi, compresi quelli di alta amministrazione, come lo Stato di emergenza, sono soggetti al principio di legalità. La delibera del CDM del 31 gennaio 2020 è illegittima perché è messa in assenza dei relativi poteri da parte del CDM in violazione degli articoli 95 e 78 che non prevedono il potere del Consiglio dei Ministri della Repubblica italiana di dichiarare lo Stato di emergenza sanitaria. Da ciò consegue la illegittimità di tutti gli atti amministrativi conseguenti come il DPCM invocato dal verbale qui opposto con conseguente dovere del giudice di pace, quale giudice ordinario, di disapplicare la dichiarazione dello Stato di emergenza sanitaria e il DPCM attuativo ai sensi dell'articolo 5 della legge numero 2248 del 1865 allegato E. 2. Inoltre deve ritenersi condivisibile, autorevole dottrina costituzionale S. Cassese secondo cui la previsione di norme generali e astratte, peraltro limitative, di fondamentali diritti costituzionali mediante decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sia contraria alla Costituzione. In particolare non appare meritevole di accoglimento la tesi di chi invoca la legittimità di tali previsioni in virtù del rinvio a tali atti amministrativi. I DPCM da parte di decreti legge che avendo natura di atti a ventiforza di legge equiparerebbero alla fonte legislativa i DPCM evitandone in tal guisa la loro nullità e la conseguente disapplicazione da parte del giudice ordinario. Ed in effetti l'ultimo DPCM emanato il 26 aprile 2020 deriverebbe la sua efficacia dal decreto legge numero 19 del 25 marzo 2020, così come gli atti amministrativi della Regione Lazio. Tale tesi, peraltro, è inapplicabile al DPCM oggetto del caso qui giudicato, essendo antecedente al 26 aprile 2020. In ogni caso la funzione legislativa delegata è disciplinata dall'articolo 76 Costituzione, il quale nel prevedere l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi. Quindi impedisce anche alla legge di conversione di decreti legge la possibilità di delegare la funzione di porre norme generali astratte ad altri organi diversi dal governo, inteso nella sua composizione collegiale. e quindi con divieto per il solo presidente del Consiglio dei Ministri di emanare legittimamente norme equiparate a quelle emanate in atti aventi forza di legge. In conclusione, solo un decreto legislativo emanato in stretta osservanza di una legge delega può contenere norme aventi forza di legge, ma giammai un atto amministrativo come le ordinanze sindacali o regionali o il DPCM, ancorché emanati sulla base di una delega concessa da un decreto legge tempestivamente convertito in legge. Da ciò discende la illegittimità delle disposizioni del DPCM del 26 aprile 2020, in Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2020, numero 108. B. Sulla illegittimità del DPCM per violazione dell'articolo 13 Costituzione. In ogni caso, in via assorbente, deve rilevarsi la indiscutibile illegittimità del DPCM del 9 marzo 2020, invocato dal verbale opposto, ove prevede che 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, le misure di cui è l'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, sono estese all'intero territorio nazionale. E del rinviato DPCM dell'8 marzo 2020, ove stabilisce che, articolo 1, 1. Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Nellemiglia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano, Chiuso, Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia. 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Nellemiglia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbania, Chiuso, Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, sono adottate le seguenti misure. A. Evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui è presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute. Tale disposizione, stabilendo un divieto generale d'assoluto di spostamento al di fuori della propria abitazione, con limitate e specifiche eccezioni, configura un vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare. Tuttavia, nel nostro ordinamento giuridico penalistico, l'obbligo di permanenza domiciliare è già noto e consiste in una sanzione penale restrittiva della libertà personale, che viene irrogata dal giudice di pace penale per alcuni reati. Sicuramente nella giurisprudenza è indiscusso che l'obbligo di permanenza domiciliare costituisca una misura restrittiva della libertà personale. Peraltro, la Corte Costituzionale ha ritenuto configurante una misura restrittiva della libertà personale ben più lievi dell'obbligo di permanenza domiciliare, come ad esempio il prelievo ematico, sentenza numero 238 del 1996. Anche l'accompagnamento coattivo alla frontiera dello straniero è stata ritenuta misura restrittiva della libertà personale e dichiarazione di illegittimità costituzionale della disciplina legislativa che non prevedeva il controllo del giudice ordinario sulla misura, poi introdotto dal legislatore in esecuzione della decisione della Corte Costituzionale. Infatti l'articolo 13 Costituzione stabilisce che le misure restrittive della libertà personale possono essere adottate solo su un motivato atto dell'autorità giudiziaria. Pertanto neppure una legge potrebbe prevedere nel nostro ordinamento l'obbligo della permanenza domiciliare irrogato direttamente a tutti i cittadini dal legislatore anziché dall'autorità giudiziaria con atto motivato senza violare il ricordato articolo 13 Costituzione. Peraltro nella fattispecie, poiché trattasi di DPCM, cioè di un atto amministrativo, questo giudice non deve rimettere la questione di illegittimità costituzionale alla Corte Costituzionale ma deve procedere alla disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo per violazione di legge. Infine non può neppure condividersi l'estremo tentativo dei sostenitori ad ogni costo della conformità a Costituzione dell'obbligo di permanenza domiciliare sulla base della considerazione che il DPCM sarebbe conforme a Costituzione in quanto prevederebbe delle legittime limitazioni della libertà di circolazione ex articolo 13 Costituzione e non della libertà personale. Infatti, come ha chiarito la Corte Costituzionale, la libertà di circolazione riguarda i limiti di accesso a determinati luoghi, come ad esempio l'affermato di vieto di accedere ad alcune zone circoscritte che sarebbero infette, ma giammai può comportare un obbligo di permanenza domiciliare, Corte Costituzionale, numero 68 del 1964. In sostanza, la libertà di circolazione non può essere confusa con la libertà personale. I limiti della libertà di circolazione attengono a luoghi specifici il cui accesso può essere precluso perché, ad esempio, pericolosi. Quando invece il divieto di spostamento non riguarda i luoghi ma le persone, allora la limitazione si configura come limitazione della libertà personale. Certamente, quando il divieto di spostamento è assoluto, come nella specie, in cui si prevede che il cittadino non può recarsi in nessun luogo al di fuori della propria abitazione, è indiscutibile che si versi in chiara e illegittima limitazione della libertà personale perché nell'ordinamento giuridico italiano l'ordine di rimanere nella propria abitazione non può essere imposto dal legislatore ma solo dall'autorità giudiziaria con atto motivato. Del resto, tali illegittime misure di sanità pubblica sono state recepite dal DPCM sul modello di quelle adottate in stati non democratici come la Cina che hanno un ordinamento costituzionale autoritario giuridicamente incompatibile con il nostro ordinamento costituzionale fondato su garanzie individuali inviolabili ignote agli ordinamenti autoritari e agli esperti sanitari di quel paese e del nostro in quanto non competenti in diritto costituzionale. In conclusione deve affermarsi la illegittimità del DPCM invocato dal verbale qui opposto per violazione dell'articolo 13 della Costituzione con conseguente dovere del giudice di pace quale giudice ordinario di disapplicare tale DPCM ai sensi dell'articolo 5 della legge numero 2248 del 1865 allegato E. La novità della controversia e la mancata costituzione dell'ente opposto giustificano la compensazione delle spese. Il giudice di pace visto l'articolo 23 della legge 689-1981 definitivamente pronunciando ogni diversa domanda d'eccezione reietta disattesa o assorbita così prevede accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto opposto con compensazione delle spese. Così deciso in Frosinone 15 luglio 2020 il giudice di pace avvocato Emilio Manganiello. Grazie a tutti.